we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie can you hear the dream in the ocean? we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuderone e ragazzi mamma mia che grande giornata che sarà quella di oggi per quello che riguarda fortnite fra pochissime ore alle 10 per la precisione i server andranno down e si comincerà con l'update per la patch 8.50 una patch davvero importantissima nel video di oggi parleremo e approfondiremo un attimo appunto questo discorso vi spiegherò anche perché è molto importante come update ma ascolteremo anche dei suoni provenienti dal vulcano davvero molto molto curiosi che danno l'impressione che qualcosa stia per accadere e chiuderò ragazzi parlandovi anche delle sfide Avengers si comincia a vociferare nella community che possano esserci delle sfide collegate con la nuova modalità LTM quindi cercherò di farvi vedere tutto quello che so voglio però prima ringraziare tutti quelli che utilizzano il mio codice creator xyuderone grazie di cuore ragazzi per supportare il canale mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessun aggiornamento sui miei video e sulle mie live ma prima eh raga ve la devo ve la devo fare raga la domandina quella che ci tengo un sacco ai vostri commenti qua sotto mi raccomando la domanda è molto molto personale sono molto curioso di sapere la risposta ma quale fucile preferisci il nuovo fucile da fanteria l'infantry rifle oppure lo scar perché in live sento che molti di voi hanno abbandonato l'utilizzo dello scar per sostituirlo al nuovo io ragazzi mi piace eh mi piace un botto il nuovo fucile perché ha colpo singolo quindi la precisione è sicuramente più alta però sono ancora fedele allo scar quindi se becco uno scar prendo lo scar per me il colpo a raffica è tanta tanta roba ditemi quello che utilizzate e che preferite qua sotto nei commenti ma quindi ciao Giolebande e bando alle ciance si va si va si va e si va a perdere due secondi parlando dell'ultimo teaser quello uscito ieri pomeriggio alle 16 confermato quello che vi avevo detto nel video di ieri mattina è inerente ad Iron Man si vede chiaramente il rapace con i guanti di Iron Man e ragazzi i teaser erano solamente tre perché tutte le notizie ufficiali nella nostra dashboard del gioco dicono ovviamente che oggi inizia l'evento o meglio la LTM così tanto è quanto è confermato con il classico messaggio che troviamo sotto al nostro personaggio nella lobby tempo di inattività programmato la sospensione del servizio per la patch 8.50 inizierà alle ore 10 del Central European Time quindi ragazzi secondo me sarà lungo il tempo di attesa prima di poter riavere i server on per due motivi motivo numero uno questo è l'ultimo update della season 8 probabilmente settimana prossima vedremo un'integrazione alla patch 8.50 ma non vedremo la 8.60 la 8.60 la vedremo fra due settimane che guarda caso è proprio il giorno in cui la season termina quindi ragazzi probabilmente sarà anche abbastanza grande come dimensione la cosa curiosa invece arriva dal tweet ufficiale di Epic Games che dice snap potrebbe essere questo il bilanciamento verrà riportato come era prima la domanda è rimettono a 500 i maz e danno salute e shield questo io ragazzi non lo so ma mi incuriosisce un botto perché balance will be restored secondo me vuol dire proprio quello devo dire che mi stavo leggermente riabituando a giocare full maz ma mi piacerebbe un botto che si ripotesse ottenere shield e salute dalle kill staremo ovviamente a vedere ma andiamo avanti e parliamo anche dell'immagine del tweet che Fortnite che Epic Games pubblica un'immagine chiarissima c'è Thanos e c'è Omega potrebbe essere il ritorno di Thanos insieme alla nuova modalità Fortnite Avengers giuro che se mi rimettono il guanto dell'infinito sono l'oxyuder più felice del mondo ragazzi lo rivoglio assolutamente questa è una locandina non si sa bene perché abbiano ancora messo Omega sono girate delle fotografie che secondo me erano dei concept quindi non ve le ho in realtà portate dove si vedeva un probabile stile personalizzato di Omega non lo so ragazzi di certo anche questa copertina è molto molto interessante ma non vi fate la caca di mutande ragazzi perché questa immagine che vi sto mostrando anche qua sono convinto sia semplicemente un concept preso ragazzi da un leakers davvero molto attivo e famoso a livello mondiale per i contenuti di Fortnite perché si sta parlando seriamente dell'arrivo di nuove sfide a premi collegate nella nuova modalità un po' come è successo con la modalità aviazione reale che tra l'altro non è più presente quindi se non siete riusciti ad ottenere tutte e quattro le coperture e purtroppo non so se al momento si potranno riottenere secondo questa immagine sembrerebbe che ci siano tre sfide che dice sopravvivi a 100 avversari nella modalità Avengers per ottenere lo standardo con la A che tutti conosciamo giocare dei match, delle partite lui qua dice con Stormbreaker ci darebbe il piccone quello che abbiamo visto nel teaser e invece qua dice giocare delle partite con Iron Man quindi è molto probabile che ci sia come skin comunque principale Iron Man io vorrei davvero che ci fosse se devo essere sincero anche se apro di nuovo la parentesi raga non conosco gli Avengers ragazzi io non li ho mai visti quindi non vi arrabbiate se vi dico le cagate Thor il martello lo scudo non lo so raga non li conosco e non ho tempo di guardare i film la nuova scia questa scia è molto interessante perché si erano trovate delle immagini con le 5 gemme quelle che andavano in poche parole che ci sono nel guanto dell'infinito potrebbero darci anche questa sfida e la figata mega galattica sarebbe che al completamento di tutte e tre le sfide si otterrebbe il backpack di Capitano America giusto ragazzi che sarebbe lo scudo di Capitano America ditemi che ho fatto giusto staremo a vedere dai secondo me le sfide ragazzi ci devono assolutamente stare ma vado avanti molto velocemente a farvi sentire una cosa incredibile questo è il vulcano che è cambiato da ieri mattina circa è diventato molto più intenso guardate e ascoltate insieme a me questo video senti che suono adesso c'è un palese suono metallico dentro al vulcano ragazzi che cavolo di suono è non si sa ragazzi se sia un bug o se sia un vero suono che arriva e che arriverà ma molto probabilmente è quello inerente a quello che uscirà dall'eruzione del vulcano beh ragazzi io vi ricordo una cosa importantissima di seguire la pagina mia Instagram soprattutto oggi perché troverete nel corso del tempo di attesa dei server un sacco di leaks riguardanti quelle cose che ci saranno nella patch vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su codice creator xiodarone noi ci vediamo domani alle 8 e mezza in live ciao